Ciao ragazzi, questo è un friscaletto in LA, adesso vi voglio far ascoltare che suono c'è. Proviamo tutte le note, AT, BASS, FUT, ok? Andiamo alle note acute. Andiamo alle note. E stiamo provando tutti, AT, BASS, SEMITONI, MEZZITONI. Andiamo alle note. 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 Com'è il suono? C'è un suono bellissimo, giusto? Vi ho fatto sentire alcuni passaggi di vari pezzi. Grazie a tutti. più di così, ciao